Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Il percorso, il percorso che ci porta alla cella numero uno. Oggi qui con il nostro libro, il libro delle vostre testimonianze, perché come vedete, attraverso questo indirizzo di posta elettronica, potete condividere la vostra storia. Ecco, come è entrato Padre Pio nella vostra vita, come è la stravolta, perché a volte Padre Pio entra prepotentemente nella nostra vita e stravolge attraverso dei segni, come è accaduto ad esempio a Salvatore Terranova da Palermo, che ci racconta che è guarito grazie all'intercessione di Padre Pio da una grave forma di scoliosi, con roto scoliosi dorsale e lombare. In seguito ad una postura sbagliata, mantenuta negli anni, anni per anni, scrive, la mia colonna vertebrale si è incurvata del tutto, non riuscivo a respirare, a stento camminavo, non riuscivo a vestirmi da solo, scrive Salvatore. Faccio parte del gruppo di preghiera di Padre Pio della chiesa Regina Pacis a Palermo. I medici mi avevano prospettato l'intervento chirurgico alla schiena, ho chiesto a Padre Pio di intercedere per me perché ero terrorizzato dell'operazione. 22 dicembre 2012, sono andato nella chiesa di Terra Santa che si trova a Palermo, mentre ero seduto avverto per tutta la schiena un forte calore. Spaventato, esco dalla chiesa e più passavano i giorni e più le mie condizioni peggioravano. Il 6 febbraio 2013 cambia tutto, appena alzato sento di avere come un busto nella schiena. Tutte le persone che mi conoscono, compresi i medici, rimangono sconvolti. Chi mi vedeva più alto, chi più dritto, i medici che mi avevano in cura erano sbalorditi e sconvolti di ciò che mi era successo. L'8 aprile 2013 sogno Padre Pio, mi sorride ma nello stesso tempo mi rimprovera perché io giocavo all'8. Successivamente nel poster che ho nella mia stanza e che lo raffigura si legge tutto questo per grazia ricevuta. E dal 2013, come ci racconta attraverso queste foto che ci ha inviato, dal 2013 ad oggi la mia guarigione è totale, anche per i medici. Grazie a tutti. Grazie a tutti.